Ciao ragazzi, sono Marianna e sono un tutor GiaSchool. Oggi proseguiamo con la terza lezione delle equazioni. Prima di iniziare ti invito a visitare il sito GiaSchool.it per altre lezioni di matematica e inoltre ti ricordo di iscriverti al canale per non perdere i prossimi contenuti GiaSchool. Bene, partiamo subito con l'esercizio. La prima cosa da fare è quella di isolare tutti i termini con la x e per farlo dobbiamo spostare tutti questi termini al primo membro e tutti quelli invece senza la x al secondo membro. Devi sapere che possiamo spostare un termine da un membro all'altro per il primo principio di equivalenza delle equazioni che afferma che sommando o sottraendo una stessa quantità a entrambi i membri si ottiene una nuova equazione equivalente a quella precedente. Ti ricordo che un'equazione si dice equivalente ad un'altra quando hanno la stessa soluzione. Con parole più informali possiamo dire che le due equazioni sono uguali. Vediamolo nella pratica. Il primo passaggio da fare è quello di spostare il meno 5x dal secondo membro al primo membro perché è l'unico termine con la x. Ed il nostro primo obiettivo è quello proprio di portare tutti i termini con la x al primo membro. Quindi, come già detto, dobbiamo spostare il meno 5x al primo membro e come hai notato dobbiamo cambiargli anche il segno perché è questo che dobbiamo fare ogni qual volta spostiamo i termini da un membro all'altro. Fatto questo otteniamo Come vedi, tutto questo meccanismo ci ha fatto trovare il più 5 al primo membro. D'ora in poi, per semplicità, diremo che quando spostiamo un termine da un membro all'altro dobbiamo semplicemente cambiare il segno. Bene, continuiamo l'esercizio. Come vedi ora, abbiamo tutti i termini con la x al primo membro e adesso dobbiamo spostare tutti quelli senza la x al secondo membro. Quindi, in particolare, dobbiamo spostare il meno 9 e il più 2 al secondo membro. Iniziamo però trascrivendo tutti i termini con la x al primo membro. Quindi, trascriviamo 3x meno 4x più 5x riportiamo il segno uguale e adesso possiamo riscrivere al secondo membro 7 meno 8. Ora dobbiamo trasportare il meno 9 e il più 2. Iniziamo dal meno 9, che cambiando il segno diventa più 9 e quindi scriviamo più 9. Adesso trasportiamo il più 2, che cambiato di segno diventa meno 2 e quindi trascriviamo anche meno 2. Il passaggio successivo è quello di eseguire i calcoli al primo membro e al secondo membro. Iniziamo dal primo membro. Quindi, calcoliamo 3x meno 4x, che fa meno 1x. Ora dobbiamo fare meno 1x più 5x e otteniamo più 4x. Quindi possiamo trascrivere 4x. Adesso riportiamo il segno uguale ed eseghiamo i calcoli al secondo membro. Per fare i calcoli più velocemente, ti consiglio di sommare prima tutti i numeri positivi, ovvero quello che abbiamo, e poi quelli negativi, quindi quello che non abbiamo. Quindi, più 7 più 9 fa più 16. meno 8 meno 2 fa meno 10. Ora sommiamo più 16. Meno 10, che fa più 6. Ripetiamo. Immaginiamo di sommare tutto quello che abbiamo, quindi più 16, e togliamo quello che non abbiamo, quindi meno 10. E ci resterà più 6. Tutto chiaro? Dunque, al secondo membro abbiamo come risultato più 6. Abbiamo quasi terminato. Quello che dobbiamo fare adesso è portare il coefficiente della x pari a 1 e poi semplificare ai minimi termini il secondo membro, come abbiamo fatto già nell'altra lezione. Quindi, per fare ciò, dividiamo tutta la nostra equazione, quindi primo membro e secondo membro, per 4. Questa divisione ci è permessa perché esiste il secondo principio di equivalenza delle equazioni, che afferma che moltiplicando o dividendo per una stessa quantità diversa da zero entrambi i membri, si ottiene un'equazione equivalente a quella di partenza. Se vuoi sapere come si applica il primo e il secondo principio di equivalenza, puoi cercarlo sul sito. E' sufficiente andare nella lente su in alto e scrivere primo principio di equivalenza o secondo principio di equivalenza. Oppure, nella playlist del canale YouTube, nella sezione Equazioni. Dunque, grazie al secondo principio di equivalenza, possiamo dividere la nostra equazione per una quantità che è diversa da zero. Nel nostro esercizio dobbiamo dividere per 4 perché vogliamo ottenere 1x. Dividiamo quindi per 4 e vediamo cosa succede. Scriviamo 4x fratto 4 uguale 6 fratto 4. Per eseguire questo passaggio ti suggeriamo di dare un'occhiata alla lezione precedente. Ora vediamo che al primo membro possiamo semplificare il 4 al numeratore con il quello al denominatore. E otteniamo quindi semplicemente x perché per renderlo pari a 1 dobbiamo fare 4 diviso 4 che ci dà 1. E infine guardiamo il secondo membro. Dunque, qui abbiamo una frazione, 6 quarti. Tuttavia, questa non è ridotta ai minimi termini. Quindi, per avere dei numeri più piccoli, possiamo semplificare il 6 al numeratore con il 4 al denominatore dividendo tutto per 2. Otteniamo quindi al numeratore 6 diviso 2 che fa 3 mentre al denominatore 4 diviso 2 che fa 2. Ricorda quindi questa semplice regola per trovare il risultato dell'equazione. Il coefficiente della x che ci rimane dopo i calcoli che abbiamo fatto dobbiamo sempre renderlo pari a 1 facendo la divisione come in questo caso. Mentre al secondo membro potremmo trovare una frazione e non sempre è possibile ridurla ai minimi termini. Se non sai come ridurre ai minimi termini una frazione ti suggeriamo di cercare sul sito il massimo comundivisore. Tutto chiaro? Dunque, la frazione 6 quarti dopo la semplificazione diventa 3 mezzi. Ecco che abbiamo terminato e la nostra equazione ha come soluzione x uguale 3 mezzi. Bene, se vuoi vedere altre lezioni di matematica segui il link in descrizione oppure vai sul sito www.geschool.it e non dimenticare di iscriverti al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti. Per oggi è tutto. Se non ti è chiaro qualche passaggio riascolta la lezione con calma. Dal tutto Marianne è tutto. Ciao!